Cento anni di moto Guzzi in scatti d'epoca e moderni. In attesa dei festeggiamenti di settembre, il comune di Mandello, in collaborazione con altri enti esponso a privati, ha realizzato una mostra fotografica sulla storia della casa dell'Aquila. È un'installazione che abbiamo voluto insieme a due fotografi importanti del territorio, uno è Carlo Zuccoli che è di Mandello e l'altro è Carlo Borlinghi di Bellano che tutti conosciamo. Un lavoro importante fatto di alcune foto storiche recuperate dagli archivi Guzzi che rischiavano di finire al macero oppure in realtà ci sono finiti ma abbiamo recuperato delle copie prima che queste foto sparissero che rappresentano la seconda parte della mostra mentre la prima parte è una rappresentazione dei modelli più iconici del marchio lungo un percorso che è quello che parte da Mandello, arriva fino a Menaggio e poi fa anche Malgrate, Lecco ed Abba di Alariana. Quindi cercare di riportare sul territorio quella che è stata un po' la storia della due ruote di Mandello. Cosa bolle in pentola in vista dell'appuntamento di settembre? Stiamo cercando di fare il possibile per far sì che la manifestazione si realizzi che anche questo con i chiari di luna della pandemia che ancora non ci ha lasciati è comunque un'attività molto complicata. L'idea ad oggi è di fare un evento che durerà una settimana coinvolgendo per la prima volta nell'organizzazione insieme il Comitato Motoraduno e Piaggio con Moto Guzzi per cercare di offrire qualcosa di più rispetto agli anni precedenti. È un periodo un po' complicato rispetto al volontariato perché la pandemia ha lasciato questo strascico di difficoltà nel coinvolgere le persone quindi il plauso mio va già fin da ora a tutti i volontari che ci daranno una mano e dei quali avremo obbligatoriamente bisogno perché senza di loro non riusciremo a fare nulla. La mostra che nelle prossime settimane verrà allestita anche nei comuni del circondario è stata oggetto di vandalismi, i responsabili sono però stati individuati. Grazie. Grazie.